Il significato delle umane incarnazioni Cerchio Firenze 77 attraverso Roberto Setti, scuola del Cerchio Firenze 77, 8 maggio 1975, Essere e divenire, a cura di VB. Dali, in questo momento in cui ogni valore che l'uomo aveva tenuto sugli altari dei propri ideali sembra sparire e venire calpestato, ho tenuto in nessun conto. Più di sempre è importante che vi siano delle creature come voi, che si riuniscono per formare una catena di pensieri, di intenzioni che risulta, all'occhio di chi vede oltre l'apparenza, come una sorta di faro da cui si diffonde un segnale per la nuova strada, che l'umanità dovrà percorrere. Parlare di evoluzione in un simile momento fa correre il rischio di non essere creduti, perché in effetti udendo i fatti della vostra vita, sembra che l'umanità non sia progredita, ma abbia percorso il cammino all'inverso. Voi sapete perché molte volte lo abbiamo detto, e lo ripeto per chi non ascolta sovente la nostra voce, che tutto avviene secondo un ordine preciso, e che anche quello che può sembrare disordine e confusione obbedisce ad una legge di equilibrio che non falla. Questo momento che tutto il mondo in generale sta vivendo è e segna un trapasso da una vecchia epoca a una nuova. È un momento di transizione dove cadono le stampelle, gli appoggi, le grucce, i limiti entro i quali l'umanità di ieri doveva muoversi, per dare respiro a più grandi e più ampi spazi. L'umanità di oggi è più ancora del domani, si muoverà in direzioni diverse, e quello che conta più di ogni altra cosa, si muoverà di moto proprio, in maggiore libertà. E' questo cadere dei tabù, delle inibizioni, delle morali coercitive, che dà l'impressione di un peggioramento nello spirito degli uomini. Ma voi dovete guardare con fiducia al nuovo respiro dell'umanità. Non dovete giudicare tutti gli uomini dai fatti di cronaca nera o simili che leggete sui giornali. Di fronte a questi eccessi, pur essi importanti ed essenziali per le creature che li compiono, perché costituiscono l'esperienza che esse debbono fare. Vi sono tante, tantissime creature che vivono semplicemente, modestamente, la loro esistenza. Forse un po' smarrite, perché non credono più alla religione, non credono più all'autorità costituita, non credono più all'onestà di chi dirige la sorte dei popoli, ma conservano nel loro intimo un'intenzione pura, un segreto anelito a qualcosa di buono e di effettivamente accomodante, sanante. Vi sono tante creature che non appaiono sulle colonne dei giornali e attendono di credere ancora a qualcosa di veramente costruttivo. Ebbene, quando avvicinate qualcuno che è vicino a voi come vicinanza fisica e più ancora vicino a voi per questo anelito di cui vi dicevo, sappiatelo riconoscere, sappiate dare a queste creature la speranza che esse attendono. Parlate a questo qualcuno. Dite che ciò che appare è un atto, è una rappresentazione che deve essere per fare scaturire nel loro intimo, nell'intimo di questi che vi ascoltano, come reazione, un maggiore impulso e una maggiore ricerca alla rettitudine, all'onestà, questa volta non più imposte dall'esterno, ma ritrovate nell'intimo di ogni uomo. Questo è quello che io vi raccomando, figli, iniziando questa comunicazione. Volete rivolgere delle domande? Domanda. Vorrei chiedere... È stato detto che il marxismo è un'espressione di questi rivolgimenti. Quando non si condivide o quando si rifiuta, ci si pone in un atteggiamento negativo? Come si può fare per superare e per accettare i tempi nuovi, che si presentano con questo volto? Dali. Ogni creatura, ogni essere umano ha un suo ambiente, un suo mondo, e ciascuno ha fatto addosso a sé questo mondo. Lo ha cucito indosso, come si suole dire. E ciò che va bene per te, forse non va bene per chi ti siede accanto, o chi fa parte della tua stessa famiglia. Così non possiamo dire intitolare una ideologia, una fede in qualche modo, e dire che quella va bene per tutti gli uomini. Non sia mai. Ciascuno ha le sue esperienze da compiere, figli, e ciascuno indubbiamente le deve compiere nell'ambito di sé stesso, dell'ambiente in cui è posto. Ciò che noi vogliamo dire quando diciamo che il marxismo va bene come il cristianesimo, deve essere inteso in questo significato. Perché certe creature abbiano delle esperienze necessarie alla loro esistenza, è utile e necessario che credano in certe ideologie, vivano per quelle, mentre per altre creature sono utili ideologie opposte. Ma quello che conta è che ciascuno creda e pensi con la propria mente, e poi sappia comprendere questo principio che significa in termini pratici tolleranza. Comprendere cioè che ognuno ha le sue esperienze da compiere e non giudicare gli altri, con il proprio metro e con la propria fede o le proprie idee. Comprendere che ognuno, ripeto, crede a quello che deve credere. Perché anche il credere in qualcosa fa parte di un ambiente, non solo fisico ma anche psichico, nel quale è posto e nel quale deve sperimentare. Quindi noi non vi invitiamo a credere in questa ideologia o in quella, in questa religione o nell'altra. Ogni pensiero degli uomini è sempre bello. Dicemmo una volta che ogni fede, tutte le fedi, sono paragonabili ai fiori. Ciascuno diverso e ciascuno bello in sé. Ciascuno segue l'ideologia, le proprie convinzioni, secondo se stesso, secondo le esperienze che deve fare. E forti di questa convinzione, figli, vi sarà più facile comprendere e tollerare chi non la pensa come voi. Quello che noi cerchiamo di farvi capire è che non esistono ideali morali validi per tutti nello stesso modo. Ma ciascuno di voi deve raggiungere la sua meta. Ciò che è ideale morale per un selvaggio non lo è certo per un santo. Certo, questi sono due estremi di una scala di valori. Ma fra questi due estremi voi potete comprendere che anche una leggera sfumatura di ideali costituisce una diversità che ha lo stesso valore della diversità che vi è fra i due estremi. Ciò che vogliamo soprattutto indicarvi come ideale che può in un certo senso avere un significato universale per tutti e invece la meta è il significato delle umane incarnazioni. Ogni uomo dal selvaggio a colui che sta per lasciare la ruota delle nascite e delle morti che noi possiamo chiamare convenzionalmente santo o superuomo o saggio deve giungere a vivere al di là del senso di separatività che la sua condizione umana gli imprime. Superare quindi l'egoismo Questo ha valore è lo scopo della vita umana e questo può essere genericamente indicato come ideale che abbia valore per tutti gli uomini a qualunque punto dell'evoluzione umana si trovino. Ebbene, se questo ideale qualcuno crede di attuarlo o perseguirlo secondo una certa ideologia e tal'altro invece crede di raggiungerlo seguendo una religione che a esso si ispira è lo stesso è lo stesso significato è lo stesso valore. Questo è importante comprendere quindi che l'uomo è sulla terra per giungere a vivere al di là di se stesso per giungere a capire che egli è uno con tutto quanto esiste e se egli è uno con tutto quanto esiste non c'è dubbio che il proprio prossimo è un se stesso. Quando l'uomo ha trovato questa convinzione interiore fermamente allora può abbandonare la condizione delle umane incarnazioni ed ha raggiunto lo scopo per il quale ha trascorso una fase di vita umana.